Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in via Abruzzo, alle mie spalle una zona abbandonata, erbaccia e fin qui nulla di strano. La realtà è che, udite udite, al di sotto del terreno da cui stiamo trasmettendo ci sono importanti resti archeologici, potrebbe esserci una necropoli. Ne parliamo con il dottor Francesco Pasculli, un amante, un cultore della tarantinità, del patrimonio archeologico e storico di Taranto, nonché un validissimo agronomo. Mentre si procedeva, lo dico volgarmente, in maniera non tecnica al taglio dell'erba, a un certo punto si verifica uno sprofondamento, si apre una piccola voragine e dai rilievi fatti risulta che al di sotto ci sarebbero resti archeologici. Sì, ti ringrazio Luigi per questa intervista. Effettivamente qui tutti gli anni viene sfalciato un trattore che effettua la pulizia di questo terreno. Ho notato però che l'anno scorso una parte del terreno ha ceduto. Si è creato un vero e proprio buco. Ho immediatamente fotografato ed inviato al Ministero dei Beni Culturali con una richiesta di intervento di sopralluogo per poter verificare eventuali preesistenze. Effettivamente attraverso una gentile risposta da parte del Ministero, da sopralluoghi effettuati, pare che questa possa essere una necropoli. Siamo di fatti molto vicini alla necropoli di Via Marche. La zona è quella. La zona è questa, quindi voglio dire non è difficile. Quello che noi dobbiamo in questo momento fare però è tutelare quest'area, logicamente. Gli scavi effettivamente se mancano le risorse devono essere trovati, però dobbiamo fare in modo che questa zona venga fuori. Perché se è vero che è una necropoli potrebbe anche non essere una necropoli scavata, quindi potrebbe esserci un vero e proprio tesoro. Al momento però è tutto fermo. Forse è un problema di fondi per realizzare gli scavi come si deve? Sicuramente è un problema di fondi, però è anche un problema a mio avviso di abbandono, perché a seguito della mia segnalazione sicuramente l'area doveva essere tutelata, recintata. Invece continuiamo a vendere che l'area è completamente abbandonata e quindi è alla merce di tutti. E questo lo dobbiamo assolutamente evitare. Io dico Luigi in quale altra città con una cosa del genere già sicuramente avrebbero fatto gli scavi, incominciati gli scavi e sarebbe uscito la necropoli. Qui invece è un totale abbandono, quindi poi considerando che essendosi aperto il buco, la pioggia entra all'interno, quindi stiamo comunque perdendo quello che potrebbe essere recuperato. Sentiamo tante belle parole, contratto istituzionale di sviluppo, fondi per Taranto. Tutte queste belle parole, perché poi alla fine i fatti si vedono poco e o nulla, si potrebbero indirizzare dei fondi per il patrimonio archeologico e far rientrare appunto questa realtà in quegli eventuali ed ipotetici fondi. Noi aspettiamo Taranto, capitale della Magna Grecia.